bene amici e benvenuti al canale di Mastello 78 oggi un giro in mountain bike e vedremo se riusciremo a raggiungere la vetta del quando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mettete un like oggi siamo con la bicicletta elettrica della bottecchia una fronte ormai ha già qualche annetto però tiene duro si prosegue con la pedalata ora vi faccio vedere il punto dove la metà non lo so la metà bene praticamente lì pausa paesaggio intanto si continua a pedalare il piotto bello eh abbiamo anche i carabinieri continuiamo a salire la giornata spero che calda ok ci siamo quasi direzione buon cuore non passa la volta però si sale ecco qua ho sentito come pietra sotto il tegola ho sentito che è stata una palla esattamente qua c'è il lago piccolo di abitana direi che le campane stanno suonando e ora si rientra e e e e e e e Grazie a tutti.